Due anni e quattro mesi, era il 19 novembre 2014, quando il caso della multa per divieto di sosta elevata all'allora questore di Pescara, Paolo Passamonti, fu denunciata nella trasmissione Le Iene per l'improvvisa scomparsa da parte di tre vigili urbani che resero testimonianza diretta proprio in quella trasmissione. Da quel momento vennero applicate sanzioni disciplinali nei confronti dei tre Donato Antonicelli, Claudio Di Sabatino e Angelo Volpe. A loro volta i vigili fecero ricorso al giudice del lavoro di Pescara. Dopo una lunga trafila arrivarono gli annullamenti per i tre agenti e a marzo 2017 il comune di Pescara è stato condannato a pagare le spese di giudizio, oltre 3.000 euro, ad intervenire il Movimento 5 Stelle che da subito si schierò con i tre vigili ed oggi chiede a chi dovranno far carico quelle spese legali. Noi chiediamo che il danno orariale causato da questo comportamento venga addebitato a coloro che sono i responsabili ovvero a coloro che fanno parte dell'ufficio disciplinare e anche a coloro ovviamente che fanno parte del Corpo di Polizia Municipale ovvero il dirigente del Corpo di Polizia Municipale. In realtà il sindaco dovrebbe rispondere a certe domande ovvero chi gliel'ha fatto fare, chi gli ha ordinato di portare avanti queste sospensioni a carico dei vigili. Noi ci accontenteremo anche di queste risposte, poi sarà la Corte dei Conti a valutare chi all'interno della dirigenza è responsabile per il danno orariale, però politicamente il sindaco dovrebbe rispondere. I vigili hanno avuto ragione su tutti i fronti, quella multa andava fatta, non doveva essere ovviamente cancellata e ovviamente i vigili avevano tutto il diritto anche di lamentarsi, anche pubblicamente, di quel metodo. La Procura di Pescara la attendiamo sempre, però la aspettiamo per anni e su determinati ambiti ho paura che non voglia mai intervenire quando si tratta del Comune.